Consulenza, alcune cose specializzate, andare a cercare gli appartamenti o consigliare su una piazza piuttosto che un'altra in base alla nostra esperienza passata perché dopo un po' aiuta. E a mia sorpresa ogni tanto scopro che non c'è così tanta gente che conosce diversi mercati e che quindi può dare questo tipo di risposta ma senza bisogno di diventare il prossimo service no perché è un venditore ma comunque altre società di consiglio grosse che si vedono in giro insomma. Anche perché poi questi clienti che vogliono comprare fuori o hanno bisogno hanno bisogno di una certa prossimità con le persone almeno così abbiamo avuto negli anni e quindi se tu hai una società con 25 persone che comincia a rispondere alle segretarie non è quello che cercano. Cercano gli referenti diretto, la persona che quando suona il cellulare rispondi tu. Esatto, però sai le esperienze noi siamo stati molto trasmestiere, cioè siamo stati molto a cavallo su diversi mestieri, vediamo che le esperienze, i modi di fare sono molto diversi e variegati quindi non penso di avere la sfera magica e probabilmente qualcun altro penserà al contrario. Grazie. Grazie.